Chiusa la porta? Non c'è la chiave? Non c'è il bicchiere? Fai come se piovesse. Non può. La posso tu. Quante ceneo? Quante ceneo? Quante ceneo? Quante ceneo? Quante ceneo? Mi sarebbe congelatore un po'. Una. Due. Il pane? Due. Il pane maniamo? Tre. Si esce fuori, no? Ecco. Quattro. Questa ce n'è cinque. Di solito ce n'è nove. Non ho visto. Anche qui cinque. E le lunghe. Questa è lunga. Non ci perde? Eccole. Una, due, tre. Qua me la mangiava. Buone. Con sale? Ah, il sale non mi piace. E non lo mangio. No, dopo. Buona cena a tutti.